bello a tutti ragazzi e benvenuti al canale ragazzo siamo venuti dal titolo e anche delle immagini di profetti ragazzi ho vinto e sotto le immagini della 200 euro ragazzi allora ragazzi allora ragazzi ragazzi iniziamo con un raga guarda ragazzi la 200 euro ragazzi allora ragazzi allora ho comprato il nuovo il gatti pinci fai scupa ragazzi che ho comprato ragazzi e ho vinto 200 euro 200 e mi ha dato ragazzi la 200 euro ragazzi è 200 euro ragazzi ho vinto 100 e 9 8 euro perchè costo 2 euro ah si? ragazzi io quando ragazzi ho vinto ho menato ho menato un urlo bestiale ma voglio vedere tutto questo s'è manu picchati po' pazzo non è più importante ragazzi con questo raga è 200 euro ragazzi con questo raga è 200 euro ragazzi con questo raga è 200 euro ragazzi con questo con questo raga è 200 euro ragazzi 2 quindi 24 pacchetti 24 gommagli ragazzi perchè ragazzi questa ragazzi i nubox ne sanno 40 no no andiamo qua in un box 12 ragazzi 12 in un box quindi ragazzi ando a acqua in due box ragazzi ragazzi che ragazzi però ragazzi oggi ragazzi 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 ve lo dico e ragazzi ci vediamo ragazzi domani ragazzi domani con il primo di due box di gommagli grazie bella ora ragazzi vado in video sono le 10 e mezza e sto avvenuto a 10 minuti ragazzi quindi ragazzi ciao e a domani con i due box di gommagli ciao